E' stato tratto in arresto dai caribinieri un uomo colto in fraganza mentre vendeva droga ad uno studente in pieno cento a Vittoria. Si tratta dell'algerino 34enne Ramsi Diebes, già conosciuto e sorvegliato da tempo dalle forze dell'ordine, i quali lo avevano notato frequentare ragazzini e i principali luoghi di aggregazione giovanile. Attraverso accurate sorveglianze è stato possibile appurare le strane frequentazioni con diversi giovani, nonché un certo antirivieni proprio in piazza Manin, finché i militari hanno sorpreso il 34enne intrattenessi con un ragazzo al quale dava furtivamente un piccolo involucro. Ne è nata una perquisizione che ha permesso di rivenire addosso al giovane la droga, un grammo di hashish, mentre al macrebino 5 euro in contanti, il regavato della dose appena ceduta. Scattato così l'arresto per l'algerino, che è stato condotto presso la caserma di via Giuseppe Garibaldi, dove, al termine delle formalità di rito, è stato sottoposto agli arresti domiciliari, presso la propria abitazione. Il giovane ragazzo, invece, è stato segnalato al competente ufficio territoriale del Governo, per detenzione, per uso personale di sostanza stupefacente. La droga sequestrata è già stata inviata presso i laboratori di sanità pubblica dell'azienda sanitaria provinciale di Ragusa, al fine di stabilirne il principio attivo e il numero dei dosi ricavabili, così come è stato sequestrato anche il denaro contante. Grazie.